Bene, abbiamo un'etichetta di acqua minerale e un problema. Le etichette dell'acqua minerale sono una fonte preziosa di problemi e quindi anche di comprensione dei concetti della chimica. Se guardiamo questa lista delle concentrazioni degli ioni sciolte in acqua che non sono sostanze, sono specie ioniche, vediamo che sono messe in ordine di concentrazione decrescente. Le prime due che abbiamo sono una specie negativa, con carica elettrica negativa, l'ione bicarbonato, e la seconda è l'ione calcio, scritto con la A maiuscola, quindi che ha fatto l'etichetta, non sapeva bene la chimica, che si deve scrivere con la A minuscola. Quindi doppiamente positivo l'ione calcio. Adesso, con questi due dati, abbiamo un problema. Se noi dovessimo, in qualche modo, trovare una maniera qualsiasi per isolare, separare il bicarbonato di calcio, che è la sostanza ottenuta dalla combinazione di queste due specie, e ovviamente questa sostanza deve essere neutra, globalmente neutra, al contrario di queste specie. Non è che devono scomparire gli ioni, semplicemente le cariche elettriche degli ioni positivi e negativi devono essere complessivamente in ugual numero, e quindi neutralizzarsi ma non annullarsi. da questa acqua, se noi riuscissimo a trasformare la maggior quantità possibile di calcio e ioni bicarbonato in bicarbonato di calcio, quanto riusciremmo a ottenerne di questa sostanza salina, di questo sale che evidentemente è solubile in acqua, visto che è in soluzione. Allora, dovremmo cominciare, innanzitutto, come sappiamo bene, a trasformare queste quantità in massa, come sappiamo in chimica la massa serve a ben poco, per fare qualsiasi ragionamento in chimica abbiamo bisogno di conoscere i numeri. Ma prima vediamo i numeri di che cosa, di quali specie. Queste sono le nostre specie, l'ione bicarbonato, come si legge l'etichetta, l'ione HCO3- e l'ione calcio, l'ione con due cariche positive. Come si possono combinare queste specie a formare il bicarbonato di calcio? Chiaramente non è sufficiente mettere uno ione bicarbonato e uno ione calcio, perché se noi facessimo questo otterremmo una... praticamente... non otterremmo la neutralità elettrica. se questi ioni fossero in ugual numero, perché avremmo un eccesso di cariche positive, non bilanciate da cariche negative. Allora dobbiamo prendere, come minimo, un altro ione negativo, quindi due ioni negativi, con una carica negativa soltanto, perché questo 3 sta a indicare il numero degli atomi di ossigeno e non certo il numero di cariche. il numero di cariche del bicarbonato è 1. Quindi prendendo questi ioni in rapporto 2 a 1 e montandoli insieme in gran numero, formando delle schiere di questi ioni, riusciremmo a ottenere una quantità di sale sciolto in acqua o comunque solidificato per evaporazione dell'acqua, che sarebbe una sostanza neutra, quindi ottenere una sostanza neutra. Questo è un piccolo pezzettino minuscolo di questa sostanza neutra rappresentato con questi cerchietti in cui la carica complessiva è appunto 0. E come già detto, le cariche non sono annullate, sono semplicemente bilanciate. Come facciamo a trovare questi numeri? Perché noi chiaramente siamo in una situazione in cui all'interno di questi 361 mg per ogni litro di acqua ci sarà un certo numero di ioni bicarbonato e in questi 89 mg di calcio nello stesso litro d'acqua c'è un certo numero di ioni calcio ma non abbiamo idea se questi numeri corrispondono esattamente al rapporto alla proporzione 2 a 1 che vediamo deve esserci nella sostanza. Quindi la nostra sostanza che formula deve avere? Deve avere la formula Ca del calcio HCO3 del bicarbonato preso due volte poi più avanti vediamo la formula. Allora la prima cosa da fare appunto è trasformare queste quantità in mg in numero. A noi ci serve di vedere se è vero che il numero degli ioni bicarbonato è effettivamente doppio degli ioni calcio. A giudicare la quantità potrebbe essere perché 361 mg è molto di più di 89 mg però c'è anche da dire che un ione bicarbonato è più pesante di un ione calcio. Allora diciamo che dobbiamo cominciare a fare questi calcoli e le quantità come inquadriamo i dati del problema in una maniera più corretta. Come al solito dobbiamo indicare quali sono le specie in gioco e le specie in gioco sono il bicarbonato il calcio e quello che dobbiamo trovare cioè la sostanza il bicarbonato di calcio che appunto si scrive in questa maniera. che cosa conosciamo come dati? Conosciamo le concentrazioni in massa su volume quindi mg al litro mg al litro che cosa dobbiamo trovare? La quantità di bicarbonato di calcio anzi la concentrazione di bicarbonato di calcio perché anche questa diciamo che c'è un errore la massima quantità che si potrebbe ottenere da ogni litro di questa acqua e quindi se vogliamo lasciare la quantità mettiamo la quantità di bicarbonato in mg e modifichiamo l'impostazione del problema che si potrebbe ottenere da un litro di questa acqua oppure mettiamo la massima concentrazione senza modificare la sostanza del problema semplicemente perché abbiamo scritto qui che ci sono delle concentrazioni quindi non stiamo ad aggiungere un'altra ria qual è la massima concentrazione di bicarbonato di calcio in mg sul litro possiamo anche dire presente in quest'acqua quindi a questo punto senza preoccuparci di come ottenerla quella che c'è dopo se c'è quella concentrazione è evidente che in teoria in via del tutto teorica potremmo essere in grado di ottenerla allora il problema di che tipo è il problema potrebbe essere visto come il problema di una fabbrica di biciclette che ha un certo numero di telai e un certo numero di ruote non conosce questi numeri ma conosce il peso delle ruote e il peso dei telai quindi per calcolare il numero delle ruote e il numero dei telai e vedere quante biciclette riesce a fabbricare deve prima trasformare i quintali di ruote e i quintali di telai in numeri e noi dobbiamo fare esattamente la stessa cosa per trasformare questi numeri in queste masse in milligrammi in numeri scegliamo come indicatore del numero la millimole visto che partiamo dal milligrammo e quindi dovremo semplicemente dividere 89,1 per il peso o massa di una millimole di calcio che è circa 40 grammi 40,08 e dividere 361 per la massa di un millesimo di mole come numero di ioni bicarbonato che il cui diciamo il peso di questa la massa corrispondente a questa millesima di mole millesimo di mole è circa 61 facciamolo dividiamo i milligrammi del calcio per 40 i milligrammi del bicarbonato per 61 e vediamo quanto otteniamo ecco qua i nostri risultati del calcolo del numero di ioni calcio sono 2,22 millimoli il numero che sta in un litro e così quelli del bicarbonato che sono 5,92 millimoli e allora il calcio sarebbero i nostri telai il numero di ioni calcio i nostri telai e mentre il bicarbonato sono le nostre ruote quelle che ne servono due per fare una bicicletta e quello che vediamo in effetti è che di ruote ce ne sono più del doppio del numero di telai perché il doppio di 2,22 è 4,44 quindi noi abbiamo bisogno soltanto di 4,44 millimoli di tra virgolette ruote con le quali potremmo fare quante biciclette 2,22 cioè faremo una sola bicicletta per ogni telaio quindi se il numero dei telai è 2,22 il numero di biciclette e questi telai riusciamo a montarli tutti perché c'è un numero sufficiente di ruote di coppie di ruote e quindi noi avremo 2,22 biciclette che utilizzeranno 4,44 ruote e le altre ruote che avanzeranno per quando arriverà una nuova fornitura di telai quindi riassumendo il numero di pezzi limitato è questo del calcio cioè dei telai e quindi è questo numero che determinerà il numero di unità intere e neutre di bicarbonato di calcio che noi riusciremo a fare mentre la differenza tra 5,92 e 4,44 che è 1,52 saranno del numero di ioni bicarbonato 1,52 millimoli che in ogni litro d'acqua avanzano nel senso che non possono essere associati al calcio evidentemente saranno associati ad altri ioni positivi che qui possiamo vedere per esempio l'ione magnesio l'ione sodio l'ione potassio non potevamo certamente aspettarci che il numero di ioni bicarbonato e di ioni calcio fossero nelle quantità esatte cioè stechiometriche necessarie per fare solo bicarbonato di calcio visto che si tratta di un miscuglio di sali che sono presenti nell'acqua perché durante il percolamento negli strati di roccia e di terreno si sono sciolti vari sali presenti nella roccia e nel terreno di cui non sappiamo assolutamente nulla dell'origine di questi di quali fossero quindi soltanto per una coincidenza molto molto improbabile fortuita avremmo potuto avere in questa acqua un numero di ioni bicarbonato esattamente doppio del numero o della concentrazione di ioni calcio in pratica il problema è completo perché noi abbiamo trovato la massima concentrazione di bicarbonato di calcio che può esserci in quest'acqua che è 2,22 millimoli al litro però il problema ci richiede di trasformarlo in milligrammi e quindi basta fare l'operazione inversa di vedere quant'è la massa di ognuna di queste 2 millimoli e quindi moltiplicare questa massa di ogni millimole in milligrammi espressa ovviamente in milligrammi moltiplicarla per 2,22 e ottenere così milligrammi al litro di bicarbonato di calcio quindi essendo 162,12 milligrammi la massa di un millesimo di mole di Ca HCO3 preso due volte cioè di peso formula del carbonato di calcio espresso in milligrammi moltiplicando questo valore per il numero di millimoli otteniamo 360 milligrammi avendo arrotondato per avere solo tre cifre significative perché tante ne avevamo all'inizio quindi in realtà non tutto evidentemente non tutto il bicarbonato della soluzione si deve essere trasformato nel prodotto finale visto che c'è un milligrammo in meno perché appunto sono avanzati diversi milligrammi di bicarbonato possiamo anche calcolare quanti sono quindi ecco la quantità di bicarbonato avanzato le millimoli sono 1,48 1,52 come ho calcolato prima frettolosamente moltiplicata per i 61,02 milligrammi ci danno 90,3 questo numero trasformato in massa 90,3 milligrammi quindi in sintesi noi abbiamo prodotto un certo numero di biciclette ma sono avanzate molte ruote quindi qui disegniamo queste ruote in più cioè questi ioni bicarbonato che sono presenti nell'acqua per bilanciare altre cariche negative altre cariche positive di altri ioni positivi quindi Grazie.